Grazie Presidente, voglio ricordare a nome anche dei miei colleghi, del mio gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà, Pietro Ingrao, che per me e per tanti di noi non è stato soltanto un compagno di partito, ma è stato anche un punto di riferimento costante, vorrei dire un maestro, il cui insegnamento rappresenta una delle pagine, a mio avviso, più belle e più straordinarie della storia della Sinistra del nostro Paese. E vorrei ricordarlo a partire da alcune immagini, che forse più di tante parole raccontano la sua lotta, il suo impegno, la testimonianza di un comunista del Novecento italiano. Quelle del giovane che prende il microfono sui palchi dei primi comizi dell'Italia liberata, sotto gli occhi dei capi partigiani, e poi quella invece di una mano alla testa, un cerotto, una fasciatura, il sangue, dopo i colpi della celere e durante una manifestazione contro la legge truffa. Siamo all'inizio degli anni Cinquanta, Ingrao, all'epoca direttore dell'Unità, ha già presente quella che sarà la costante ricerca di una vita intera, la democrazia. Quella democrazia che un'Italia, da poco uscita dal fascismo, vedeva a rischio a causa di una legge elettorale truffaldina. Quella democrazia che divenne per lui un continuo motivo di analisi e di riflessione, approfondito negli anni successivi, naturalmente durante il periodo in cui fu Presidente della Camera e quando diresse il Centro Riforma dello Stato. E poi ancora un'altra immagine, quella indimenticabile, dell'undicesimo congresso del PC. Erano passati dieci anni dai fatti drammatici di Ungheria ed evidentemente per Ingrao era divenuta insopportabile l'idea che la ragione di partito venisse prima di tutto il resto. E quel coraggio di dissentire che forse gli mancò nel 1956, lui stesso lo riconobbe anni dopo, lo trovò invece in quell'undicesimo congresso. Mentirei, compagni, se dicessi che mi avete persuaso, disse a un certo punto del suo intervento, lo ricordano tutti. Ma era la prima volta che una frase come quella veniva pronunciata in un contesto così solenne e così poco abituato a una frase così. Quella frase significò moltissimo, in termini politici e anche in termini umani. Ingrao perse il congresso, ma la storia degli anni successivi dimostrò che aveva colto i cambiamenti di fondo della società italiana e di quelle stesse masse che rappresentavano il blocco sociale di riferimento a cui non aveva smesso di guardare. Aveva visto cioè i sommovimenti che già attraversavano il Paese, le stesse spinte che venivano anche dal Concilio Vaticano II, quella energia che si tradusse due anni dopo nel grande movimento che nulla avrebbe lasciato come prima, il 1968. La sua ipotesi politica, sconfitta nel congresso del partito, muoveva dall'idea che la politica fosse non solo un grande motore della storia, ma che non dovesse pagare un dazio o una subalternità alle compatibilità economiche. E muoveva anche dalla intuizione che l'irruzione dei movimenti sulla scena politica potesse diventare una risposta efficace, forse unica alla crisi che già percepiva della democrazia rappresentativa. E ancora, in un'altra immagine del suo percorso politico, questa ricerca non viene meno. Siamo alla metà degli anni Settanta, Ingrado diventa Presidente della Camera. Interpreta quel ruolo non solo con la capacità istituzionale, con la correttezza, il profilo istituzionale che anche gli avversari gli riconoscevano, ma soprattutto non intendendolo come un ruolo separato dalle dinamiche sociali. E allora anche quegli anni, come l'altra rilevantissima esperienza che citavo prima, quella della direzione del Centro di Riforma dello Stato, diventano per lui l'occasione di riflettere sui temi che gli stavano più a cuore. La democrazia, il rapporto tra governanti e governati, quello tra le masse e il potere, la necessità storica di mettere elementi dinamici in quelle istituzioni nate dalla resistenza antifascista. Questa ricerca ci conduce ad un'altra immagine, una delle ultime della sua vicenda politica. È quella del congresso di scioglimento del Partito Comunista italiano. Ingrado, come sappiamo, contrasta quell'esito, ancora una volta è sconfitto. Ma nella sua elaborazione, di nuovo, anche questa volta, non c'è nessuna traccia né di ortodossie nostalgiche e nemmeno di mera appartenenza ad un campo che si andava sgretolando e del quale lui, tra i primi, aveva letto tutte le insopportabili contraddizioni. C'è piuttosto la convinzione che cambiare un nome e cambiare un simbolo avrebbero significato cambiare anche una linea politica e rinunciare per sempre a quella critica di sistema e a quella alternativa di società che sarebbe invece servita. I suoi interventi successivi, interventi successivi alla svolta, il pacifismo, il no alla guerra, il richiamo continuo, costante all'articolo 11 della Costituzione, sono lì a testimoniarlo. E allora voglio chiudere con un'ultima immagine, questa molto più recente, nel suo centesimo compleanno. I familiari, ai quali, ovviamente, a quelli che sono qui, a quelli che non ci sono, facciamo le condoglianze oggi. I compagni e gli amici di una vita, le donne e gli uomini delle istituzioni, lo festeggiano. Non lo festeggia, purtroppo, la sua adorata Laura, morta alcuni anni prima. Ma diverse generazioni di donne e di uomini, non solo di sinistra, appunto, rendono omaggio a una figura straordinaria del nostro tempo. Pietro Ingrao, l'uomo che aveva insegnato a coltivare il dubbio, che rifugiva dai dogmi e dalle facili certezze. L'uomo che amava la poesia, che amava il cinema e che, come scrisse, voleva la luna. L'uomo che aveva inseguito per una vita intera quella semplicità così difficile a farsi. Grazie.